Bella a tutti ragazzoli e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su un altro episodio di Minecraft signori, allora prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti, per i giocamenti e per il supporto che date a serie e a canale vi ricordo di iscrivervi al canale perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno e io ce lo sto mettendo tutto signori, siamo arrivati all'episodio numero 92, il resto tocca a voi basta semplicemente mettere un pulsante, cliccare il pulsantino per l'iscrizione e anche un bel like e anche un commentino tattico fa sempre piacere signori, fa sempre piacere cosa facciamo al video di oggi? semplice e indolore ci siamo portati i fiori di Chorus nello scorso video, quindi li andremo a piantare dove li andremo a piantare signori? essendo materiali particolari, alberi particolari, li voglio andare a mettere dove c'è il nostro portale del nether signori per abbellire quantomeno questa zona di qua in maniera tecnico-tattica come faremo ad abbellirla? non lo so, non lo so, ma qualcosa ci possiamo inventare allora, di sicuro voglio far partire lì devono andare a coprire la parte posteriore quindi di sicuro direi di metterli, per come l'ho pensata io direi di mettere tutta una serie di questi blocchi che sicuramente ora non mi basteranno mai nella vita però, allora, intanto facciamo una cosa cerchiamo di metterli dove ho intenzione di mettere queste sorte di alberi perché se li mettiamo dovunque non mi bastano veramente allora, se non sbaglio aspettate allora, abbiamo detto qua sì, qua no qua sì, qua sì, qua sì qua sì, me ne restano due eh, porca miseria potevo prendere qualche blocco in più di questi, mannaggia a me però aspettate, se non ricordo male eh niente, me ne mancano due me ne mancano due, porca di una paletta ambriaca mi mancano due di questi, di questi blocchi nei quali andiamo a mettere questi di qua mettiamo uno, lo mettiamo qui uno qui uno qui uno qui, cazzo, già sta a crescere ma che stai a dire? troppo veloce, signori così è così così questi alberi strani cresceranno dietro il nostro portale e daranno colore a questa parte di qua che noi non abbiamo molto, molto sfruttato però è anche vero che è un po' lasciata così a se stessa questa zona, signori qui dove arriviamo noi quindi direi considerando che abbiamo tanti di questi brick dovremo fare anche delle fornaci più veloci perché, allora, se non sbaglio qui abbiamo nederite come se piovesse e infatti cuociamo la tutta scusate il lo stop di digestione che c'è stato un attimo nel mio corpo questi 13 blocchi d'oro prendiamoli non so cosa ci facciano lì andiamo a recuperare due blocchi di lava due blocchettini di lava che prendiamo da qua uno e due poi facciamo anche così no, no, non facciamo così perché questi poi li devo riempire niente, signori non vi preoccupate sono momenti di organizzazione di organizzazione mettiamo a cuocere questa lava dov'è di che avremo un bel po' di brick da poter sfruttare andremo a dormire, ovviamente e avremo un bel po' di brick da poter sfruttare per sistemare meglio quella zona di lì qui cosa possiamo posare? questa la possiamo posare sicuramente e basta per il momento frutto di chorus non ci cambia assolutamente niente la sua esistenza va bene dormiamo e capiamo un attimino come possiamo modificare tutta questa zona di qua ovviamente dovremo andare nel nether a recuperare quegli altri blocchi ma non sarà oggi il giorno perché non ho intenzione di farmi ovviamente la strada del nether possiamo un attimino fare una serie di gradini o comunque allungare questa piattaforma fino magari a questa zona di qua e poi fare dei gradini che ci uniscono là quantomeno abbiamo questa sorta di zona se no potremmo allungare con questi blocchi che sto cuocendo questa zona di qua dietro e mettere altri alberi ecco cosa potremmo fare potremmo fare una sorta di scacchiera ma non con quelli bensì con la netherrack così manteniamo il disegno esagerato potremmo fare perché poi se no vengono troppo attaccati capite? no, se potremmo semplicemente allargare questa zona così e mettere altri due magari alberelli tipo per rendere proprio questa zona piena che dite? oppure no? oppure li lasciamo così sono un po' confuso signori sono un po' confuso non mi piace questo fatto che questi blocchi finiscano qua capite? non mi piace che non possiamo raggiungere il portale da qualche altra parte però va bene così va bene così va bene così allora intanto quest'albero lo leviamo così recuperiamo del legno che non ci serve a niente al momento però però va bene però diciamo che il legno è sempre importante tu ti levi di qua tu sei cresciuto? no ok cos'altro facciamo? mentre lì crescono prendono forma e ci danno vita questa nuova strana struttura enorme allora signori volevo 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 piantarne qualcun altro anche da qualche altra parte di questi alberelli però il problema è che abbiamo finito la nether la i brick quelli di nether perché sarebbe bello pure fare tutta una striscia qua dietro di questi alberi dici ma cosa ti serve? niente fa 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 colore è che dobbiamo andare devo andare nel nether a recuperarli mamma mia mi annoia troppo no no mi annoia troppo utilizziamo oramai stiamo facendo i blocchi di nether brick utilizziamoli per questi altri scopi quanti quanti me ne hai già preparati diciassette ok continuo a cuocere e altri diciassette perfetto ne abbiamo già trentaquattro con trentaquattro possiamo farci così giusto? sì ce ne possiamo fare otto ok con otto possiamo farci giusto giusto possiamo farci giusto giusto quattro gradini se non sbaglio andiamo qui e allunghiamo non so se lasciare questo giro un giro così di questa di qua e magari mettere qualche altro alberello qui signori magari ne potremmo mettere non tanto lì quanto qui vedete proprio come si proprio andremo a creare un ingresso sì mi piace mi piace recuperiamo questa ok che non serveva niente qui recuperiamo questa fancucchio maledetta recuperiamo questa l'abbiamo recuperata siamo a tre siamo a due che effettivamente mi bastano per fare quello che voglio fare ma quella l'abbiamo persa pure va bene dovremo andare un attimino a recuperare un bel po' di questi di questi blocchi e la andiamo a mettere precisamente qui giusto perché lì sì qui no qui sì ok e la stessa cosa qui no qui sì e fiorello lì in teoria in teoria scusatemi a questo punto facciamo le cose fatte bene progetti quelli fatti proprio seduta stante proprio nel momento in cui decido di registrare proprio così su due piedi come se non ci fossero domani torniamo su torniamo su 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 ci abbiamo altri due blocchi di pietra dell'end signori li mettiamo li volevo fare solamente dietro ma non ha senso metterli solamente dietro guardate che cosa ganza che sta avvenendo li mettiamo a questo punto pure dove mancano ovvero uno qui non lì brutto scemo ma bensì ti ho chiesto qui perfetto e l'altro lo mettiamo pure qui ok metti uno di questi qui e uno di questi qui e abbiamo dato un tocco al portale signori ci piace? si diciamo che ci piace diciamo che ci piace si diciamo che ci piace certo devono crescere tutti e devono circondare il portale in maniera abnorme in maniera abnorme e e noi poi potremmo fare un ulteriore giro di anche di questi brick mi sta bene dei brick normali per dare una forma ancora più grossa alla nostra zona qui del portale abbiamo questi brick del nether? no però abbiamo i brick questi di qua che quindi potremmo intanto non ho terra gravissimo questa cosa non ho della terra ottimo recuperiamo un attimino dal volo della terra signori perché non ne ho questa cosa non è buona non è almeno dentro le casse non ci posso credere mai nella vita che non abbiamo terra così a disposizione oh io ne ho altri 51 qua di questo interessante non abbiamo terra a disposizione ottimo neanche qui però altri oh aspettate signori ma siamo 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 tosti ci abbiamo ci abbiamo tutto c'erano 9 blocchi e non lo sapevo bene stavamo facendo la fame per non domandare la fame per non cercare allora riesci a mettermelo qui riesci a mettermelo qui sì perfetto voglio fare un giro di tutti questi blocchi quindi così così mettiamoli dovunque mi manca ok mi manca mi manca e porca miseria mi mancano comunque ma fa un bagno mi mancano comunque e poi tutti questi di qua metterli in un ulteriore giro a chiudere signorina proprio a creare così il perimetro di questa di questa zona a creare il perimetro di questa zona così dici ma che serve a niente però ogni tanto allora qua ci manca un blocco sì qua ci manca un blocco di quello di lì quindi dobbiamo fare così dobbiamo fare così e in teoria dobbiamo fare così giusto no perché qua ci va quello ce ne va uno in più quindi in teoria dobbiamo mettere questo qua e levare questo che abbiamo perso in maniera brutale in maniera brutale in maniera brutta fammi tutti questi altri brick me ne puoi fare 13 ok facciamo una cosa devo avere un attimo le dei chiare quindi in teoria qua ci veniva uno di quelli qua ce ne va uno di quelli quindi qua ci va questo ok qua ci va uno di il blocco del land lo so che è fatto così è veramente brutto signori ma non c'ho voglia di tornarci siamo stati siamo stati ieri nel land e non c'ho voglia di tornarci nel breve periodo così ok qua ci va questo quindi di conseguenza 1 e 2 ok qui ce li abbiamo tutti e tre così quindi va chiuso proprio così come è stato fatto il disegno 1, 2, 3 e non mi ci fa andare e 4 perfetto questo lo mettiamo di qua mi piace signori dai abbiamo allargato la piattaforma e gli abbiamo dato un po' di carattere si con questi con questi alberelli così che vanno che vanno a riempire questa zona nuova del nostro del nostro portale mi piace e in più ve ne dico un'altra possiamo mettere le torce quelle blu le lanterne quelle blu per dare ancora più carattere a questa situazione recuperami questi 37 recuperami questi 37 sono già 64 perfetto no leva che poi appunto non andiamo a fare le lanterne quelle 16 ma fammene 5 6 dovrebbero bastare anche perché non ho intenzione di fare gradini particolari tanto si cuocili tutti tanto abbiamo abbiamo tanta di quella netherrack signori che ci esce dal dal dalle scatole praticamente allora qui 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 dimmi lo fai mettere no dobbiamo andarci da questa parte di qua ok lì qui ma come sono finiti ma a me prende in giro mi prende ma 4 mi bastano sicuramente quindi ne abbiamo uno qui e un altro qui dobbiamo semplicemente sostituire per completare tutta questa baradana questi con altri altri blocchi di questa di questa di questa netherrack praticamente però per concludere il video di oggi facciamo un ultimo esperimento scientifico scusa ho visto passare una zanzara la cosa per niente buona cerchiamo lanterne che ovviamente perché non mi fa fare le lanterne allora ho della sabbia sì ho della sabbia ora mi fai fare le lanterne che voglio fare lanterne no come cazzo se fanno le lanterne quello è blu bella domanda rapido taglio signori rapido taglio che cerco di capire come si fanno le lanterne blu ok più facile del previsto più facile del previsto 4 no con 4 non ci faccio nulla me ne fai giustamente non c'ho il ferro quindi va bene facciamo altre altre lanterne di queste di qua 4 8 8 mi bastano sì signori 2 2 3 4 5 sì va bene trasformiamo un po' di questi in nugget quanti me ne puoi fare 4 non mi bastano mai nella vita qualche altra nugget vai così e me ne fai altre 4 perfetto signori 4 ne volevo e 4 ne abbiamo 4 ne volevo e 4 ne abbiamo mettiamole qui completiamo ah nel frattempo è notte quindi andiamo a dormire che è la cosa migliore per tutti così siamo tutti tranquilli e tutti sereni dovrì che mettiamo le nostre 8 lanterne mentre mamma mia signori porca miseria cosa è uscito fuori forse abbiamo leggermente esagerato forse però leggermente mettiamo una di qua e una di qua perfetto poi ne mettiamo una di qua punto estremo una due le mettiamo qua e un'altra la mettiamo qua sul punto estremo va bene abbiamo rapidamente trasformato tutta questa zona di qua in qualcosa di indecifrabile però va bene detto questo la nostra nuova zona del portale è pronta detto questo io vi ringrazio per questo video vi ringrazio per i like per i commenti per il supporto e noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento bella raga ciao